Prima serata è presentata da Wolf Metal Welding Buonasera, ben trovati a prima serata. Sta per arrivare la tempesta perfetta e non stiamo parlando di clima, anche se ce ne ha fatte passare di cote e di crude in questo periodo il clima. Stiamo parlando di anziani e gli ingredienti di questa tempesta perfetta sono presto detti. La nostra realtà in Italia, in Veneto e a Vicenza sta invecchiando. Avremo un numero di ultraottantenni destinato a passare da 4,6 milioni a 8 milioni nel 2050. Questi anziani come saranno? Saranno più soli, saranno all'interno di famiglie con un unico componente, mononucleari. Avranno sicuramente bisogno di maggiore assistenza, maggiore cura. Non la troveranno all'interno della famiglia e nel frattempo le pensioni di quelle persone come saranno? Con un calcolo completamente contributivo, molto probabilmente più basse di quelle di oggi. E allora bisognerà assisterli, ma già oggi stiamo dicendo che sul fronte dell'assistenza le risorse sono poche, le persone sono poche, i medici, gli infermieri, il personale socio-sanitario non è sufficiente già per far fronte alla richiesta di oggi. E allora se non ci prepariamo, quella tempesta perfetta che vediamo benissimo venire avanti, vediamo le nuvole, vediamo il vento, vediamo quello che sta per succedere fra qualche anno. Se non ci muoviamo, quella tempesta ci travolgerà. E nel frattempo c'è anche qualcuno che dice, sapete cosa c'è? Piuttosto che un ministro per i giovani, sarebbe meglio avere un ministro per la terza età. Ci vediamo alla copertina e poi vi presento gli ospiti. Axera realizza reti aziendali veloci, sicure e scalabili per esigenze future. Analisi preliminare dell'infrastruttura di rete Reti aziendali con tecnologie wired o wireless Reti definite dal software anche intrasede Axera, telecomunicazioni e soluzioni ICT per il tuo business www.axera.it It's not time to make a change Just relax, take it easy You're still young, that's your fault There's so much you have to know Find a girl, settle down If you want, you can marry Look at me I am old but unhappy I walked once like you are now And I know that it's not easy To be calm When you found something going on But take your time Think a lot Why think of everything you've got For you will still be here tomorrow But your dreams may not How can I try to explain When I do, he turns away again It's always been the same Same old story From the moment I could talk I was ordered to listen Now there's a way And I know that I have to go away I know I have to go It's always been the same Eccoci in diretta con prima serata, la copertina di Sandro Marchiori, l'avete visto, trasformazione della società, famiglie sempre più ristrette, si fanno meno figli, molto spesso si rimane da soli e va tutto bene, anche la vita da single va tutto bene, fino a quando non arriva una certa età e quella certa età se si ha fortuna non si riesce a evitarla e a quel punto si ha molto bisogno di essere assistiti. Chi c'è con noi questa sera? Roberto Volpe che è presidente di URIPA, le case di riposo del Veneto, torna a trovarci Sergio Berlato, europarlamentare Fratelli d'Italia, grazie di essere con noi questa sera. Chiaramente sarà lei la parte politica alla quale chiederemo un sacco di cose questa sera perché su questo fronte bisogna sicuramente darsi da fare. E' con noi Mario Siviero che è il segretario del sindacato CISL che si occupa di pensionati, tanti dati da confrontare. Siviero, recentemente abbiamo parlato anche di anziani che con la pensione che hanno non ce la fanno a curarsi. Vero. Sempre di più? Sempre di più. E per parlare di cura degli anziani abbiamo Luca Pellizzari che è direttore della unità operativa complessa di geriatria dell'ospedale di Sant'Orso. La chiamerò primario perché abbiamo prima provato a mettere direttore unità e non ci stava né sotto pancia. Quindi abbiamo deciso di tornare alla vecchia condizione. Reparti di geriatria che hanno bisogno di ampliare i posti letto, dottore, o che affrontano una situazione che è evidentemente in aumento sul territorio? Allora, i reparti di geriatria sono in sofferenza cronica. Ma è proprio tutto un cambiamento del servizio sanitario che sta avvenendo perché la popolazione invecchia sempre di più. E dalle stime del piano sociosanitario si vede che sono sempre più gli anziani. Purtroppo sono sempre più anziani malati. Persone con più di 80 anni, il 20% ha 5 patologie croniche. E il 60% arriva ad averne 3 e hanno un carico di malattia che spesso ne limita l'autonomia. Perciò difficoltà ad accedere ai servizi del sistema sanitario. Spesso, come diceva, vivono soli. E ad oggi la porta principale d'accesso è il pronto soccorso. Quindi si passa attraverso il pronto soccorso, si arriva e magari c'è necessità anche di degenze lunghe perché non si trovano alternative. Le degenze lunghe cerchiamo di ridurle al minimo per dar più risposta possibile a tutti i pazienti che arrivano. Perché il pronto soccorso è sempre full. Come il reparto di geriatria ha un tasso d'occupazione che arriva quasi al 100%. E vedete come tutte le cose si legano insieme, dalla carenza di personale, la difficoltà di accesso ai servizi sanitari, i pronto soccorso che sono sempre pieni. Voi direte, cosa ci fa in mezzo a tutto questo un alpino come Luciano Cherobin? Beh, forse poi discuteremo anche del fatto che gli stessi alpini dell'ANA una certa età cominciano a averla e se non avranno ricambio l'invecchiamento ci sarà anche nell'ANA. Ma certamente non vogliamo perdere l'occasione a 21 giorni dall'adunata nazionale degli alpini di discutere un po' di come ci stiamo organizzando. organizzando già presidente della sezione ANA Vicenza-Monte-Pasubio, Luciano Cherobin, per questa adunata si occupa di alloggiamenti. Certo. Ovviamente voi avete un'esperienza tale per cui dall'anno scorso sapete quanta gente partecipa, sapete quanta gente ha bisogno di avere posto per dormire. Li avete già sistemati tutti. In linea di massima sì. Ne abbiamo sistemati come organizzazione circa 11.500 come per i campi, palestre e fiera, tre padiglioni della fiera. Ovviamente questi sono quelli che sono gestiti solo dalla SRL della adunata. Nei comuni con termini stiamo parlando di circa 2.500 per ogni comune che è nell'intorno della città di Vicenza. Dopodiché ci sono tutte quelle realtà, parrocchie, gruppi alpini privati che danno alloggio agli alpini, danno il cortile, danno la fabbrica che dà il piazzale, tutte queste realtà. Ma arriverà l'alpino con la tenda che si mette nel primo spazio verde che trova? Secondo me sì. Che bello. Non vediamo l'ora di ritrovarci in mezzo a quella festa che ricordiamo da 33 anni fa. E' con noi anche Luigi Ugone, presidente dell'associazione Noi che credevamo nella Popolare. Da anni si batte per ottenere risarcimento in relazione al fallimento, al commissariamento della Banca Popolare di Vicenza. Recentemente ha avuto un rapido incontro con la Presidente del Consiglio Meloni, ci racconterà bene tutto quanto più tardi. Grazie per l'invito. Grazie a lei. In questo consesso rappresenta, se vorrà farmi questa cortesia, quella parte di risparmiatori che vedono avvicinarsi la loro terza età, la loro vecchiaia. Che magari ci avevano anche pensato e avevano messo via due lire, le avevano messe via in azioni della banca e adesso? Sì, assolutamente. Diciamo anche che la nostra associazione, che è la più grande d'Italia per i risparmiatori di banca e vendita, rappresenta per il 60% risparmiatori over 60. Quindi in ufficio moltissimi ci sono arrivati che hanno o avevano i risparmi nella Popolare del TFR per una vecchiaia più serena. Le dico, lo sa, perché ci siamo visti un sacco di volte, insomma la disperazione che ha creato quel crack in quelle persone e nel territorio poi di conseguenza è stato enorme. Quindi diciamo che l'impatto verso qualcuno, quel crack, quel famoso crack, l'impatto verso qualcuno di 40 anni, 45 anni, sa che lavora ancora e che ha un reddito e una possibilità di, diciamo, di vedere in un futuro ancora la possibilità di poter fare altro risparmio, ha avuto un impatto. Sugli anziani che già utilizzavano quei risparmi per pagarsi o la casa di riposo o le cure, perché le cure oggi costano purtroppo molto più che qualche anno fa, anche perché la sanità, insomma, non è più quella e di conseguenza l'impatto anche psicologico è stato enorme ed è tuttora enorme. Quindi tutto quello che riesce ad arrivare ancora dal fear che c'è ancora è tutto per noi grasso che cola, insomma. Quindi abbiamo rappresentato anche questo alla Presidente. E bisogna continuare a abbattersi giustamente come fate voi. Roberto Volpe, cerchiamo di mettere in ordine questa tempesta perfetta, magari mettendoci dei dati. C'è stata una ricerca di Tintank Nord-Est, è un'agenzia che studia i dati della demografia, fa una fotografia di quello che è oggi la nostra società e proietta questi dati di qui a 30 anni, nel 2050. Che cosa ci dice quella ricerca? Che dobbiamo preoccuparci tutti? Siamo già preoccupati, infatti siamo qua per parlarne. Allora, con gli amici di Stuttore Zara, Università della Terza Età, la Studoripa e la Fondazione, abbiamo commissionato questa ricerca alla provincia di Vicenza, che invito chi vuole vedere la presentazione, l'ultima delle quattro incontri a lunedì sera a Valdagno, alle 5 e mezzo a Palazzo Festari. Ma qui non siamo di fronte a valutazioni soggettive, politiche, emozionali. Qui parlano i numeri, 8 milioni di anziani oltreottantenni nel 2050 contro i 4 milioni e 8 di oggi. Che è questo grafico che stiamo vedendo? Vuol dire che in Veneto passiamo da oggi 370 mila anziani oltreottantenni a 640 mila nel 2050. Dopodire numeri sterili sono numeri, li traduco. Vuol dire che nel 2050 dobbiamo immaginare che tutta la città di Vicenza, tutta la città di Verona, tutta la città di Padua e tutta la città di Rovigo siano abitate solo da anziani oltreottantenni. Sì, però adesso voi quanti posti avete per anziani che hanno bisogno? 32.588 sono i posti letto del Veneto e sono un numero assolutamente inferiore, inadeguato. Voi pensate che la media europea è di 46 posti letto, noi in Italia abbiamo una media di 16,8 posti. La Germania ha 70 mila, sulla popolazione è over 80. La Germania che è un paese molto simile al nostro come livello di popolazione, noi siamo il secondo paese più vecchio al mondo, probabilmente la Germania è poco meno al terzo o quarto posto. Quindi noi siamo in ritardo su tutto e sapevamo che diventavamo un paese vecchio. Continuiamo a dirlo, oggi non stiamo rendendoci conto di questa emergenza, abbiamo 5,5 infermieri ogni mille anziani oltreottantenni, la Germania ne ha 14. Noi possiamo rincorrere qualsiasi ipotesi che possa porre una soluzione, ma l'onda, non la fermeremo, io ripeto, voglio rappresentare che è una preoccupazione, ma la cosa che fa pensare è che sia stata licenziata una legge sulla non autosufficienza, la legge 33, in cui la parola RSA è citata una volta in modo residuale e dove vengono delegati 13 ministeri a fare i decreti attuativi, il che vuol dire non fare assolutamente niente. Aspetta un attimo, Berlato, perché a suo giudizio il tema anziani e la parola anziani non entra nell'agenda politica? Noi per esempio abbiamo visto grande trasporto per il PNRR, fondi che dall'Europa arrivano anche in Italia, oltre che nel resto d'Europa, a finanziare qualsiasi cosa. Io continuo a vedere comuni che progettano scuole, asili, realtà per l'infanzia, con i soldi del PNRR, c'è qualcosa nel PNRR per gli anziani? No, infatti una delle cose che non si capisce è perché il secondo paese, ma l'Europa stessa non ha imposto ai paesi un'attenzione, il PNRR a fronte di 210-20 miliardi di euro finanzia, mette 300 milioni, che non basterebbero probabilmente neanche per metà del Veneto, se dovessimo pensare, per trasformare posti letto di RSA in mini alloggi per anziani non autosufficienti, cioè, non so se mi sono spiegato, togliere posti letto dall'RSA per trasformarli in mini alloggi per non autosufficienti. Vorrei chiedere all'amico primario se lui può immaginare chi ha avuto una mente così perversa, perché pensare a un mini alloggio per un anziano non autosufficiente, togliendo posti letto all'RSA... Poi dentro a quel mini alloggio come fa ad arrangiarsi l'anziano se non è autosufficiente? Ma vedete, questo deve capire la gente. Aspetta un attimo, non riesco a capire se per la politica anziani è una brutta parola, cioè non fa prendere voti. Il problema per garantire servizi adeguati di natura sanitaria e sociale agli anziani non è solo di natura economica, è di natura culturale e valoriale. Non riusci a capire che l'anziano non è un peso che in qualche modo bisogna sopportare finché il buon Dio se lo porterà con sé. L'anziano è una ricchezza per la collettività e deve essere considerato come tale. Se viene considerato come tale si trovano anche le risorse per garantire negli ultimi anni dell'esistenza terrena delle persone garantire una qualità della vita che sia adeguata alle aspettative. Il problema sta in questi termini. Si pensa sempre all'anziano quando esce dal ciclo produttivo e si pensa all'anziano come un peso. Io lo dico sempre, faccio un esempio. Quando un anziano, una persona da 100 anni muore, è come se andasse a fuoco un'intera biblioteca. Pensate quanti volumi di sapere durante la vita di una persona vengono accumulati nella propria biblioteca e basterebbe poco a capire che quel valore importantissimo anziché lasciare che vada a fuoco, che venga perduto, bisogna fare in modo da utilizzarlo a beneficio anche e soprattutto le giovani generazioni. Una volta, quando c'era un po' di più buonsenso, cosa si faceva? Si mettevano gli anziani vicino ai bambini, ma non per risparmiare sulla babysitter, ma per fare in modo da trasferire la saggezza, il sapere degli anziani alle giovani generazioni perché gli anziani venivano considerati come elemento... Lì ci siamo persi un pezzo di famiglia, perché quando le famiglie erano numerose questo passaggio poteva anche essere naturale, cioè l'anziano che in qualche modo trasferisce ai giovani. Quando l'anziano è solo perché la famiglia non se l'è fatta o perché, essendo molto piccola, è rimasto solo, a quel punto a chi la passa questa saggezza? Spesso l'anziano rimane solo, non perché non si è fatta una famiglia, ma perché sono i figli e i nipoti che lo abbandonano. Ci sono grandi campagne di promozione per sensibilizzare l'opinione pubblica contro l'abbandono degli animali in estate, ma non si spende un euro per sensibilizzare l'opinione pubblica contro l'abbandono dei nostri anziani che spesso vengono abbandonati peggio dei cani nell'ospizio o a casa, perché è più comodo portare il gattino e il cagnolino nella gabbietta in spiaggia, ma è scomodo portare l'anziano che viene abbandonato a casa. Questa è la questione che dobbiamo noi affrontare, la questione di natura culturale. Quindi se noi riteniamo che l'anziano sia un elemento fondamentale per la società, mi viene da ridere adesso che dicono che abbiamo bisogno di essere comunitari per pagare le pensioni ai nostri anziani. I nostri anziani hanno pagato per tutta la vita per poter avere la pensione, quindi non è che abbiamo bisogno dell'ultimo che arriva dall'altra parte del Mediterraneo o dell'oceano per sperare che paghino le pensioni. E bisogna riconoscere i nostri anziani di essere stati a posto per tutta la vita e meritano riconoscenza, rispetto soprattutto. Giustamente lei parla di pensioni, siccome noi abbiamo qui un esperto di pensioni io voglio capire anche questo argomento. Questo Paese sta riconoscendo delle pensioni dignitose a questa popolazione che sta diventando sempre più anziana oppure sono proprio gli anziani a dover fare i conti con l'ultima settimana del mese? Prima di rispondere a questo posso dare due dati per capire che... Volentieri. Rispetto al fatto che io credo possiamo parlare di anziani, ma se non parliamo anche di quello che sta sotto gli anziani, che vuol dire la popolazione più giovane e di economia, io le do il dato della provincia di Vicenza, oggi abbiamo circa il 23% degli ultimi 65 anni in provincia di Vicenza, fra 20 anni saranno il 33% e i lavoratori o gli attivi che non sono lavoratori scenderanno dal 64% al 54% e dovranno subbarcarsi i giovani, che sono l'11% fra 20 anni e il 33% degli anziani. Cioè il 54% della popolazione deve lavorare per mantenere i giovani e gli anziani. Questo è un dato su una ricerca fatta a Vicenza, questo dato. Se non parliamo dell'economia possiamo parlare di tutte le cose che vogliamo, delle pensioni e d'altro, cioè è la ricchezza economica che tiene in piedi tutte le generazioni. Per cui pensare di dividere le generazioni è totalmente sbagliato dal mio punto di vista, perché dobbiamo unire le generazioni su questo, ma unire in termini culturali, che sono d'accordo, ma anche in termini proprio di economici rispetto a questo, dobbiamo unirli sotto l'aspetto a questo. Seconda questione, io credo che se guardo gli altri dati cosa sta avvenendo, cioè noi abbiamo di fronte a questa situazione, avremo famiglie sempre più sole, io non sono d'accordo con quello che dicevano, l'On. Berlato, perché in Italia se abbiamo 3.900.000 persone non autosufficienti, di cui un milione e mezzo sono assistiti dalle badanti, 350.000 sono dentro l'RSA, 40.000 sono volontari dell'RSA, e 7.200.000 sono caregiver, cioè familiari. Sono familiari che si fanno carico dell'assistenza. Pensare, non è che li abbandonano, perché ci sono 7 milioni di caregiver che si fanno carico degli anziani o genitali, è che non è riconosciuta questa cosa. Cioè, la politica, tra virgolette, non riconosce l'assistenza familiare. Perché normalmente sono le donne che abbandonano il posto di lavoro per assistere al familiare, quando termina, e perché termina con la morte del familiare normalmente, però quei 3.900.000, la stragrande maggioranza sono anziani, sono di giovani, ma ci sono soprattutto anziani, circa oltre all'80%. Quando la natura fa finire questa necessità di assistenza, le donne non rientrano nel... Hanno abbandonato il posto di lavoro per assistere al familiare e dopo di che non rientrano al lavoro, fanno fatica a rientrare. E lì c'è il tema delle pensioni. Io credo che la riforma Dini, che era una grande riforma fatta nel 1996, che però ha portato questo cambio epocale, cioè dal calcolo delle pensioni sul reddito al calcolo delle pensioni sui contributi. Allora, se io lavoro in una vita lavorativa in crescita, in termini, diciamo, sotto l'aspetto della carriera e ho una vita lavorativa lineare, tranquilla e d'altro, io vado in pensione, anche il sistema contributivo in qualche modo migliora, può anche migliorare la prestazione. Chi invece ha un sistema lavorativo, cioè nel percorso di vita, per varie ragioni, interrompe, o per ragioni economiche perché l'azienda va in crisi, o per ragioni personali perché sceglie altre cose, queste persone sono condannate a essere povere alla fine e soprattutto sono donne, perché il dato, quello che diceva anche il dottor Volte, quando parliamo degli anziani, io l'altro giorno ho un incontro in comune a Dueville, ci dicono che il 43% degli oltre 65 anni vive da solo e la stragrande maggioranza è donna, che sono quelle che hanno il percorso lavorativo più disastrato e quindi con reddito ancora... In provincia di Vicenza, i dati IMSS di oggi sono che oltre 40.000 persone hanno la minima, la pensione minima sono 600 euro, sono stragrande maggioranza donne e sono persone che hanno più di 65 anni, cioè sono 40.000 persone in provincia di Vicenza, cioè queste qui come sono condannate in termini di vita, di una vita dignitosa rispetto a questo. Primario, come mai le donne sopravvivono di più? Fanno una vita migliore? Fanno una vita più attenta? Tendenzialmente in passato erano meno soggette ai fattori di rischio, non fumavano, non bevevano, non sono andate in guerra, non facevano lavori pericolosi nei campi, perciò è un dato statistico, è un dato statistico, tendenzialmente per questo che le donne hanno una vita media maggiore degli uomini, ed è vero, spesso sono quelle più in difficoltà anche da un punto di vista economico. Perché appunto hanno assistito e però hanno questa aspettativa di vita più lunga e maggiore necessità di essere assistite o sono più brave anche a fare prevenzione? Allora, è un dato statistico, la maggior parte è comunque affetta da comorbidità, cioè hanno, come dicevamo prima, tre, quattro, cinque patologie. Per quanto uno bravo può essere, anche solo l'assunzione della terapia per una signora che ha 85, un uomo che ha 85-90 anni può essere difficoltosa, non sempre precisa, non sempre si ricorda, se vive sola non è facile andare a fare i prelievi per controllarsi o andare a fare le visite di routine, perciò è un insieme di fattori che le rende fragili. Difatti quello che si pensa sempre di più è che più essere ospedale centrici è portare l'ospedale fuori e la connessione col territorio, col distretto, creare una rete che vada a casa di queste persone, perché la maggior parte delle famiglie cerca di tenerselo a casa. Il paziente, l'anziano, anche se malato, la maggior parte delle persone cerca di tenerselo a casa. Non è facile, non è facile economicamente, che quello sarebbe, è uno dei problemi, ma come diceva prima, per seguirlo uno deve rinunciare al lavoro e questo diventa un problema. Alla lunga diventa un problema, anche perché l'assegno unico è un supporto che danno, ma non copre le necessità. Si calcola che le spese in Veneto per l'assistenza al domicilio dei caregiver, delle bananti, sia circa 800 milioni di euro. E economicamente, dai dati che ci presenta la Regione Veneto, comunque sarebbe conveniente tenerli a casa, come qualità di vita e economicamente. Servono sicuramente tutte le strutture, cioè è una rete che si deve formare. Non si può pensare solo al territorio, solo alle case di riposo, solo all'ospedale dove viviamo noi. Bisogna uscire che questa rete si crei, se ne crei una nuova. Per fare una rete sarebbe utile avere un ministro unico che magari si occupa di questo genere di cose. Lei, Volpe, ad un certo punto ha preso carta e penna, ha scritto al presidente del Consiglio Meloni, poi quella lettera, forse ce l'abbiamo anche fra i documenti in regia, quella lettera poi l'ha rigirata anche a tutti i senatori della Repubblica e a tutti i deputati della Repubblica sostanzialmente dicendo cosa? Chiedendo cosa? Che rispetto al problema che portano in noi seno i dati che abbiamo detto, perché io vorrei fare una precisazione anche tra l'altro, la mia preoccupazione, la nostra preoccupazione è per la popolazione che diventa anziana in condizioni di un'autosufficienza. Io quando sento parlare di anziani oltre 65 anni, già qui comincio a non capirmi, perché oggi parlare di anziano oltre 65 anni dovremmo intanto cominciare culturalmente ad alzare l'asticella e parlare di anziani ad esempio oltre 75. Ma il vero problema è che dentro i numeri che abbiamo visto prima cova la non autosufficienza all'età media degli ospiti e delle strutture è di 85-86 anni, quindi noi dobbiamo andare a prendere quei numeri. Perché è in quel momento lì che si diventa non più in grado di arrangiarsi. Ma tenete conto che nelle strutture per anziani oggi il 70% dei nostri ospiti ha disturbi del comportamento che non rendono possibile l'assistenza ad omicidio neanche da parte di cargiver. Il 60% ha problemi di disfagia per far capire ai telespettatori cosa vuol dire. Vuol dire che se bevono un bicchiere d'acqua soffocano. Noi siamo grandi consumatori di gomma di tare perché dobbiamo gelatinare l'acqua. L'acqua diventa un gel e la si beve a cucchiaini. Quindi tenete il tema è quello della non autosufficienza. I numeri di cui io voglio sottolineare l'emergenza è dentro al tema della non autosufficienza non assistibile perché io non ho mai visto come nell'ultimo anno e mezzo veramente i familiari aggrappati ai vetri delle strutture a chiedere aiuto a chiedere posti letto perché non ce la fanno guardate che un anziano non autosufficiente in quelle condizioni credo il primario lo sa descrivere molto meglio di me è devastante in un nucleo familiare e il combinato di questa tempesta perfetta è che oggi abbiamo i car giver ma sta diventando vecchia la generazione di boomer i boomer è una generazione che non ha nucleo familiare dopo è la generazione è la generazione di chi è nato negli anni 60 esatto in cui la massima esplosione è dopo gli anni 60 teniamo conto nel 1962 sono nati 1.350.000 bambini quest'anno in Italia sono nati 360.000 assistere al domicilio come la politica sta vendendo Monsignor Paglia ha venduto assistiamoli tutti al domicilio ma non abbiamo neanche personale per assistere nelle strutture dove avremo questo esercito di popolazione sanitaria che andrà nei domicili io spero che ci sarà non lo so ma dentro a questi numeri c'è veramente un'emergenza e non ci si rende conto che il combinato disposto famiglie anziani che diventano soli che diventano anziani soli quindi senza i caregiver non ci saranno le possibilità di assisterli tutti al domicilio saranno anziani con difficoltà importanti la demenza non è una cosa che tu gestisci al domicilio lasciando un anziano solo 23 ore perché questo è il problema e abbiamo un'Italia un'Europa che invecchia che non affronta questo tema quello che io mi chiedo la lettera alla Meloni è stato un senso di responsabilità arriva la necessità di dire metti un ministro non ce l'abbiamo mai avuto un ministro dedicato agli anziani stavamo dicendo prima i numeri con quei numeri credo che un ministro ma anche senza portafoglio che rappresenti faccio l'esempio c'è il ministro della disabilità l'onorevole Lucatelli che sta facendo il suo lavoro benissimo è senza portafoglio ma fa sintesi dei temi fa sintesi dei temi noi abbiamo bisogno di un ministro a cui portare i problemi perché poi trovi la soluzione non a caso la legge 33 cosa dice salvano 13 ministri allora io dico al presidente del consiglio fate una riflessione c'è la necessità di avere uno che fa sintesi rispetto a questi temi il consumo sanitario che porterà questo invecchiamento alla popolazione ma ci rendiamo conto cosa sarà oggi quando io sento parlare che abbatteremo le liste d'attesa ma non le abbatteremo mai le liste d'attesa perché è una richiesta in crescita legata alla popolazione che invecchi andate in un androne di un ospedale guardate la vita media di chi sono le persone dell'androne dell'ospedale facciamo una stimola ma questo è un paese che non si rende conto che tra dieci anni quindici cambierà anche il sistema economico ci sarà un'economia geriatrica che ruota attorno al paese perché cambieranno anche gli usi e i costumi chi tra dieci anni io non investerei una lira pensando che ci sia mercato nei giovani probabilmente oggi come si diceva prima oggi non li vedi ma potresti tra qualche anno in Amazon comprerai anche gli ausili per la deambulazione che sarà un mercato il dramma è che continuiamo a parlare 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 e alla fine non si mette mai a terra questo che sarà un dramma per il paese quando hai detto è una tempesta perfetta è una tempesta perfetta poi vorrei correggere non abbiamo più ospizi fortunatamente onorevole Berlato no abbiamo centri servizi più o meno capaci più o meno belli chiamate la RSA ospizi no perché sennò passa un messaggio che è anche naturalmente sbagliato Berlato è anche vero che le campagne elettorali si giocheranno sempre di più su questa fascia di popolazione intanto perché è quella che diventerà man mano più numerosa quindi sugli anziani bisognerà puntare poi probabilmente gli anziani sono anche quelli che mantengono di più l'abitudine quanto meno se non sentono il dovere di andare a votare e quindi forse proprio le politiche per la terza età saranno quelle che faranno la differenza fra essere eletti e non essere eletti sì c'è anche questo aspetto però ciò che ci muove non deve essere una valutazione di natura egoistica quindi fare qualcosa perché ti aspetti un ritorno è qualcosa che deve essere fatto perché si ritiene giusto farlo quindi il nostro senso di dovere e di riconoscenza nei confronti dei nostri anziani ci deve portare a mettere al centro dell'attenzione della politica questo tema perché voglio dire anche io a volte ragiono anche qualcuno di miei colleghi che magari è giovane e dico guardate che se avrete fortuna arriverete anche a voi di essere anziani e se voi adesso non pensate ai vostri e ai nostri anziani poi quando toccherà a voi troverete difficile che qualcuno si ricordi di voi e quindi perché bisogna avere anche fortuna qualcuno è spavallato e dice ma voi anziani ormai siete fuori siete un peso siete una rottura di scatole ripeto se avremo fortuna anche noi arriveremo lì a quel punto e quindi se noi avremmo fatto tutto il possibile per garantire dignità perché non è solo un problema di garantire il personale che possa poi accudire i nostri anziani e poter anche fare in modo da poter garantire quei servizi essenziali ai nostri anziani la questione di dignità non può essere visto come un pacco un elemento negativo un peso per la società per questo dico che è un problema di natura culturale e quindi se entra nell'agenda della politica in genere entra questa che diventerà tra un po' un'emergenza insomma abbiamo sentito i dati quindi tra un po' sarà un'emergenza vera e propria quindi o ci prepariamo a questa emergenza o non so come potremo affrontare una situazione che diventa sempre di più drammatica e quindi su questo credo che vadano a farti guardate abbiamo parlato prima di questo famoso PNRR si sono staziate quantità norme di risorse per tanti settori ma la sanità che è stata massacrata negli ultimi anni 35 miliardi di euro negli ultimi 10 anni i vari governi che si sono succeduti hanno tagliato nella sanità nel sociale per dire no quindi lì c'era la possibilità anche dopo l'emergenza sanitaria legata al covid-19 c'era la necessità di fare un investimento corposo per riuscire a garantire servizi adeguati la qualità di servizi adeguati alle aspettative dei cittadini e invece hanno riservato il bricio e allora Draghi che era stato visto come il salvatore della patria è stato lui che ha messo a punto il PNRR poi mandato in Europa ma credo che abbiamo perso una grande occasione perché avremmo potuto recuperare gran parte di quel gap che abbiamo accumulato quando per effetto di carenze di risorse si è deciso di tagliare sulla sanità e sul sociale e questo è inaccettabile quindi quella magari è un'occasione che abbiamo persa ma credo sia importante avere consapevolezza del problema e quindi fare in modo che la politica sappia che questa è una non è qualcosa rinviabile perché più viene rinviata più il problema si ingrandisce e più ce la troveremo addosso quando sarà il momento mi dice solo un numero Volpe voi mi diceva avete quanti posti letto 32.588 mi dice un numero di posti letto adeguato fra dieci anni potrei dire dei numeri in rapporto ad oggi potremmo avere bisogno di almeno 40 45.000 posti letto c'è un altro problema però che dei 32.588 che abbiamo ne abbiamo quasi 20.000 inadeguati perché nessuno dei set presenti e credo nessuno di coloro che ci stanno ascoltando accetterebbe di passare gli ultimi anni della vita con un estraneo in camera noi abbiamo il 60% di posti letto in camere multiple camere doppie o triple quindi c'è anche un ritardo nell'adeguare quello che c'era per quello io continuo a sottolineare che il tema non è derogabile perché qui anche la politica la sento troppo rispondere risolverà il problema il ministro che ci sarà in quel momento De Gasperi diceva che i politici pensano alle prossime elezioni gli statisti alle future generazioni qui siamo profondamente in ritardo cioè anche se partissimo domani mattina saremmo comunque in ritardo c'è un dato oggettivo due cose che io permettetemi ogni tanto perdo anche un po' il filo vorrei che qualcuno testimoniasse chi è il leader politico in questo paese che avete sentito parlare di anziani non autosufficienza un leader un rappresentante un segretario di sindacati maggiormente rappresentativi che abbia messo nell'agenda come priorità il tema della non autosufficienza chi è una persona rappresentativa dell'ambito imprenditoriale o d'altro che ha messo questo punto tra i primi all'ordine del giorno sarà forse perché si tratta di persone fuori dal ciclo produttivo ne parliamo anche dopo la pubblicità che adesso ci vediamo e ci rivediamo fra pochissimo rientriamo in studio stiamo parlando della questione anziani con un paio di suggestioni che abbiamo sviluppato durante la pubblicità primario c'è grande passione nei giovani per la carriera di geriatra i giovani medici fanno la corsa per specializzarsi in geriatria o come sospetto preferiscono magari dermatologia oculistica pediatria quelli che scegliono geriatria hanno grande entusiasmo perché lo vogliono perché lo vogliono però non è una delle specialità più gettonate in Italia le più gettonate sono chirurgia plastica dermatologia cardiologia tutte quelle specialità che danno anche la possibilità di lavorare fuori dall'ospedale o di far più libera professione geriatria medicina d'urgenza quelle che dovrebbero andare a lavorare in pronto soccorso sono quelle più in carenza in special modo qualche numero sulla geriatria lei c'era sì adesso allora a verona nel primo anno di specialità ne sono entrati due mentre negli anni precedenti erano più di dieci un anno sono stati sedici e a padova il numero esatto non lo so ma dovrebbero essere sei sono sei su diciotto dovrebbero essere sedici diciotto quindi stiamo parlando sostanzialmente di una copertura dei posti disponibili che va intorno a un terzo circa ma guardi comunque c'è stato un calo in quasi tutte le specialità c'è stato un calo in quasi tutte le specialità è la professione del medico che è diventata meno attrattiva perché la strada è lunga sono sei anni di laurea e quattro cinque anni di specialità gli stipendi sono quello che sono sono quello che sono se li confrontiamo con l'estero sono la metà se non meno e dopo essendoci carenza di personale tanti turni di notti sabati domeniche pressione lavorativa importante ma e deve comunque unirsi a una qualità di vita perché se uno comincia a fare cinque notti al mese più tre fine settimana su quattro comincia a pensarci su e dice ma magari c'è anche un mondo fuori dalla corsia all'ospedale che mi piace tantissimo che è la mia volontà di vita ma magari non deve diventare una missione insomma esatto non si può essere tutti missionari eppure il bisogno continua a crescere continua a crescere continuerà sempre di più a crescere una specialità come geriatria che ha due capisaldi perché la geriatria si occupa del paziente anziano con patologia acuta o cronica o riacutizzata ma la parte più bella la parte fondamentale è la gerontologia che è quello tutto lo studio dell'invecchiamento come ritardare il più possibile l'invecchiamento come fare prevenzione come far sì che nel 2050 gli anziani malati e non autosufficienti siano sempre meno si calcola dai dati del piano sociosanitario regionale se noi curassimo tutti i fattori di rischio si parlava prima di demenza ridurremo del 35% i pazienti affetti da demenza se noi ritardiamo di 5 anni l'insorgenza della demenza i malati di demenza sono il 50% perciò questo è uno tsunami che adesso ci sta travolgendo però sono tanti i punti su cui agire uno di quelli più importanti è la prevenzione perché nel 2050 diventerò anziano anch'io perciò tanto si può fare nelle persone di 50 40 30 partendo anche prima nei bambini ma anche nelle persone di 60 70 anni per mantenere l'autonomia il più possibile se noi non riduciamo il tasso di malati è ovvio che verremo travolti l'incidenza peggiore sulla autosufficienza da dove arriva? cioè qual è la malattia che oltre un certo limite non ci rende più autosufficienti? la demenza? la demenza sicuramente la demenza sicuramente però è un tutt'uno cioè non possiamo è finita l'epoca in cui si considera la singola malattia perché il diabete anche se non è una malattia invalidante subito se non trattato bene può portare a demenza può portare patologie cardiache e le patologie cardiache sono connesse alla non autosufficienza cioè i fattori di rischio che noi andiamo a trattare trattano tantissime le patologie la maggior parte trattano il diabete trattano la demenza c'è una prevenzione sulla patologia neoplastica sulle patologie cardiache perciò è uno stato chiamiamolo infiammatorio interno che va a colpire più organi è ovvio che se uno non ha la cognitività questo è altamente invalidante altamente invalidante ha bisogno di un aiuto quotidiano e ora per ora e costante trattatevi bene forse questo vi aiuterà dicevamo invece del risparmio anziani che sono protagonisti e sono stati protagonisti del risparmio che col risparmio della banca popolare pagavano le rette della della RSA sì per noi l'evento banca popolare è stato per tantissimi dei nostri ospiti è stato devastante erano dei grandi risparmiatori in attività lavorativa avevano questi risparmi io ricordo penso in fondazione c'erano molti anziani che con la pensione e l'indenità pagavano l'acconto della retta mensile poi a fine anno staccavano le cedole facevano il saldo era il periodo natalizio davano la mancia ai nipotini ed altro questa gente che si è trovata dalla sera alla mattina ad avere in mano un pugno di mosche e la beffa rispetto a tutto questo è stata che per alcuni di loro è dovuto intervenire la pubblica amministrazione come civilmente obbligata perché si sono trovati il comune di residenza ha dovuto integrare quindi oltre che a un danno diretto c'è stato un danno indiretto anche alla collettività perché poi i comuni la pubblica amministrazione siamo noi hanno dovuto integrare quindi anche di questo si è parlato poco però ho apprezzato molto l'intervento iniziale sulle persone della terza està è stato drammatico questo profilo economico e guardate che sotto il profilo emotivo io ricordo gli anziani i quali andando dal segretariato anziani in struttura che gli teneva un po' perché tanti erano anche soli senza più famiglia o con i figli lontano si sono trovati a essere poveri sono diventati poveri un conto complessivo di quanto poveri siamo diventati con la vicenda delle banche popolari veneti ce l'avete in mente certo stime fatte si parla di tra le due banche più di 10 miliardi di risparmio bruciato ed è un valore enorme perché era risparmio reale non erano valori di borsa caricati e gonfiati essendo una banca del territorio che era cooperativa e che viaggiava con il risparmio del territorio non è come le azioni di Google o di Amazon diciamo che un giorno fluttuano e ci sono i grossi investitori che un giorno comprano guadagnano un giorno perdono qui ha perso il territorio e come diceva giustamente prima non solo di ricchezza ma anche della parte psicologica il trauma è stato enorme infatti noi molti anziani noi abbiamo più di 3600 associati molti anziani senza famiglia li abbiamo assistiti anche per quanto riguarda il FIER rimborso al FIER che oggi per fortuna è arrivato al 40% e avendo un po' di visione anche a chi a casa non è capitata la vicenda o non è non è incappato nella vicenda Popolari Veneto Veneto Banco Popolari di Vicenza c'è da capire che al di là del portafoglio proprio questa vicenda ha appunto impoverito il territorio ha impoverito il nostro vicino di casa il nostro parente più vicino o il nostro amico beh ha impoverito anche noi perché allora quella gente lì non paga più la retta dell'RSA come prima non va a fare più la spesa come prima non va più nei negozi al bar o ai ristoranti come prima è stato un colpo veramente molto forte e noi siamo orgogliosi ritornando al tema della trasmissione di essere stati i ministri di noi stessi dei risparmiatori noi ci siamo caricati questo peso sulle spalle come associazioni come risparmiatori sono risparmiatori anch'io abbiamo cercato di trovare un'assolazione che fosse alla portata di tutti invece il governo che c'era all'epoca aveva proposto soluzioni alla portata di pochi noi siamo riusciti a portare nel territorio dati del MEF un miliardo trecentocinquanta e rotti milioni ad oggi di cui all'ottanta per cento questi soldi sono ricaduti in Veneto nei risparmiatori Banche Venete moltissimi di queste appunto in provincia di Vicenza scusa ricordami quant'era il danno complessivo 10 miliardi quindi ne abbiamo ricevuto il 10% per adesso abbiamo ricevuto del danno totale il 10% però c'è da tenere in considerazione una cosa che la norma che ha cancellato le banche con il salvataggio è stato voluto dall'Europa che la norma che prevede che se Zonin Consoli o Tiziano Bullato gestiscono la banca e sbaglia a pagare sono i risparmiatori e quindi gli unici che sulle banche non possono mettere mano questa è una norma europea l'Europa ha previsto questa norma per motivi probabilmente loro non hanno previsto però una salvagente per chi come noi ci è finito dentro ed è stato impoverito da nulla quella che noi abbiamo creato con la battaglia che dura ormai da 8 anni a Vicenza con la nostra associazione voi c'eravate come TVA quando è venuto Di Maio e Salvini a Vicenza a darci il fire il miliardo e mezzo insomma è una norma è una legge che sia a livello italiano sia a livello europeo non esiste non esisteva tanto che siamo due tutti ad andare in commissione europea della Vestager per discuterne e insomma farcela approvare è stata una lotta non da poco però come state dicendo questa sera è solo una questione di visione se pensiamo al problema delle banche come un problema limitato di chi ha investito nelle banche e basta vediamo solo una parte di quello che è la verità noi siamo orgogliosi di aver dato una mano non solo ai risparmiatori ma siamo orgogliosi di aver dato una mano al Veneto ad un sistema economico che aveva che aveva sofferto pesantemente vorrei tornare sulla questione pensioni Silviero lei prima diceva c'è un gran numero di persone e sono soprattutto anziane donne che vivono con la pensione minima questa platea di persone dovesse aver bisogno appunto non essere autosufficiente e avesse bisogno di essere inserita in una struttura assistenziale ce la fa a permettersela paga la retta assolutamente no oltretutto le ho dato su Vicenza rispetto lei chiedeva prima quali potrebbero essere i fabbisogni della RSA oggi a Vicenza siamo 196.000 ultra 65 anni fra 10 anni saranno 242.000 oggi abbiamo a Vicenza 100 ultra 65 anni 3,2 posti in RSA mantenendo questa divisione fra 10 anni con questi numeri oggi abbiamo 6.300 posti in RSA a Vicenza con questi numeri ne avremo bisogno di 7.700 senza fare niente cioè dovremmo avere mantenendo il stesso divisore 100 ultra 65 anni rispetto alla crescita che avremo e mantenendo 3,2 posti dovremmo avere 1.300 posti in più senza fare niente senza migliorare la situazione senza migliorare con dati che probabilmente la non autosufficienza peggiorerà le condizioni per darvi un altro dato quando io dicevo sì ci sono 40.000 pensionati ma di 220.000 pensionati vicentini ci sono 80.000 che non arrivano a 1.000 euro di pensione per cui 40.000 a 600 ma altri 80.000 cioè vuol dire che metà vicentini hanno una pensione sotto i 1.000 euro che va da 600 a 1.000 euro che sono comunque per cui è chiaro che con questi dati è la crescita cioè chi esce oggi dal mondo del lavoro in termini di pensione ha una pensione dignitosa ma ci sono figure che escono comunque con pensioni basse rispetto a questo soprattutto visto che il sistema pensionistico oggi è misto c'è inteso CS si esce con un ragionamento tra reddito e contributi ma sempre ormai questo dato nei prossimi anni porterà che tutto diventerà sempre di più contributivo e i dati che se i dati presentati dall'Inps che ogni anno presenta questi dati rispetto alle pensioni noi andiamo a vedere c'è un calo della media della pensione cioè invece di crescere la media pur crescendo i salari avremo sempre di più i salari sono cresciuti no poco ma sono cresciuti soprattutto causa inflazione perché è il sistema IPICA che porta all'aumento dei salari che recupera l'inflazione il dato è che se io guardo i dati che dà l'Inps la media delle pensioni in Veneto non è cresciuta è calata è continuamente calata perché il sistema contributivo porta a una pensione più bassa aspetta un attimo che voglio riusciranno a pagarsi le rette delle cose e chi le pagherà le pagherà la famiglia Roberto Volpe se io con una pensione da 600 euro non autosufficiente solo non ho famiglia non ho nessuno probabilmente se non sono autosufficiente esco da un reparto come quello del primario che tenta di curarmi di salvarmi la vita ma comunque mi dimette in quelle condizioni dentro a una RSA come ci entro e come pago? Entrare tendiamo un vero pietoso perché è un sistema burocratico lento pachidermico comunque entri attraverso una graduatoria di priorità chi sta peggio ha maggior diritto è giusto ammesso che ci sia il posto entra la retta viene quindi valutato l'aspetto quindi il suo potere d'acquisto come pensione tendenzialmente chi è non autosufficiente gode anche dell'identità di accompagnamento che sono altri 580 ma il contatto di 600 euro a quel punto se lui non ha nessun sussidio non ha patrimonio non ha familiari non ha non ha non ha interviene l'istituto del vecchio domicilio di soccorso oggi è diritto di cittadinanza per cui interviene il comune e anche qui torniamo al tema gli amministratori non si rendono conto che tra qualche anno fuori dal ufficio sindaco dovrà scrivere assistente sociale perché sarà uno dei principali una delle porte principali dove busserà una fette importante di popolazione non tanto per l'aspetto dell'integrazione della rete però fatemi stare tranquillo perché stiamo parlando di liste d'attesa cose eccetera ma già oggi la lista d'attesa è una cosa impressionante c'è qualcuno solo non autosufficiente che viene dimesso dall'ospedale che ha solo 600 euro di pensione che non va da nessuna parte se non autosufficiente da qualche parte in qualche modo si trova la soluzione però rispetto ai piccoli numeri ci sono soluzioni rispetto ai numeri che arriveranno io non lo so perché qualche volta ci rapportiamo con gli ospedali a volte aggiungiamo anche noi un letto se ce la facciamo c'è una stazione emergenza o c'è il combinato disposto che in quel giorno la provvidenza ha guardato all'interno della struttura quindi si è liberato il posto e c'è una stazione ma loro chieda al primario quante volte lui ha ospite in dimissione ed è costretto a tenerli perché in attesa che si è libero un posto in casa di riposo credo sia la quotidianità me lo tiene un giorno in più due giorni in più tre giorni in più perché da noi si sta aspettando capita capita abbastanza spesso cioè non c'è una via d'uscita allora spesso sono anche anziani non identificati prima come soli che hanno un equilibrio precario a casa vivono soli però non sono conosciuti magari non sono conosciuti neanche dal suo medico di medicina generale o dai servizi sociali succede un fatto acuto e perdono l'autosufficienza e di questi ne capitano abbiamo anche tanti pazienti che poi ritornano a casa il problema è che quando ci troviamo pazienti soli che non c'è nessuno rimangono lì finché non attiviamo tutti i servizi sociali l'adegenza 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 media comunque in geriatria rimane bassa perché quest'anno abbiamo fatto un'adegenza media di 11 giorni perciò ce ne sono è che la porta d'ingresso resta il pronto soccorso però l'ospedale per acuti non è il loro posto non è lì che deve restare poi la persona non è lì ma il tema degli anziani soli ma il tema degli anziani soli perché comunque se devo tenere delle persone che hanno passato la fase acuta o meno letti per l'acuto che arriva perché arriva comunque qualcun altro al pronto soccorso a bussare con una patologia grave e acuta sempre noi oggi gli assistenti sociali delle nostre strutture fanno i centralinisti è giusto che la gente sappia i nostri assistenti sociali non svolgono la loro funzione diciamo professionale al pieno perché sono continuamente sollecitati dall'esterno cioè stanno 8 ore al giorno a cercare un buco dove infilare rispondere alle esigenze che arrivano dagli ospedali dalle famiglie che chiamano da fuori guardate che già noi oggi abbiamo una pressione che è spaventosa mi è piaciuto molto l'intervento di prima su rispetto alla solitudine io è anni che chiedo perché in questo paese non si fa una norma per cui i comuni censiscano gli anziani soli gli ultra 75 perché non lo sappiamo in molte occasioni lo sappiamo dall'anagrafe che è solo ma essere solo al piano terra di un condominio essere ottantenne al piano terra di un condominio ed essere ottantenne al quarto piano dello stesso condominio senza ascensore cambia radicalmente la vita della persona il primo è l'uomo libero l'ultimo è un carcerato esattamente e la solitudine è devastante è uno dei fattori di rischio più alti di mortalità e noi andremo non è il viver solo è essere solo e chi è solo aumenta la percentuale di mortalità del 25% e i boomer chi sono? sono esattamente è la fotografia dell'anziano di domani perché c'è piaciuto essere singoli è una cosa che un paese deve rendersi conto che c'è questo problema e dopo è dove sono? perché giustamente è dove sono? i dati che abbiamo noi sono la fascia pedemontana e montana è la parte sud ovest della provincia che si stanno spopolando dei giovani e rimangono degli anziani tutto l'altopiano compreso la valle dell'agno se vuole gli do i numeri per vedere qual è la situazione già oggi già oggi il 40% della popolazione è ultra 65enne in queste aree già oggi incredibile ci fermiamo un secondo ma non c'è un dato basta parlare di ultra 65enne io non sto dicendo che è un dato io non sto dicendo che sono anziani i nuovi 50 anni è il numero che prendono come dato di riferimento anch'io sono accorto con lei la ricerca Brambilla che dice da 65 a 75 anni fanno 16 punti di P bravo queste persone da 65 a 75 anni ricerca Brambilla che è stato anche sottoministro o qualcosa qualche anno fa che si è tolto dal governo perché su quota 100 che non condivideva sulla quota 100 che ha fatto disastri la quota 100 ha fatto disastri perché ha dato pensioni basse questo perché ha dato più pensioni più pensioni basse perché potremmo essere prima ha 38 anni di lavoro però invece di 41 42 43 fermatevi un secondo devo mandare la pubblicità ci vediamo fra pochissimo parliamo ancora un po' di anziani poi cambiamo argomento fra poco è uguale è uguale questa è una ricerca fatta sì sì ma diciamo ancora due o tre cose sulla questione anziani poi cominciamo a occuparci di adunata nazionale degli alpini quanti si sono presentati alle visite che avete organizzato Siviero con gazebo in città per noi abbiamo fatto il 21 ottobre l'anno scorso così tra carovane e la salute abbiamo portato 14 gazebo in piazza San Lorenzo con partenariato dell'Ustro di Vicenza del Comune l'Ustro ha portato 7 gazebi con medici infermieri e quant'altro noi abbiamo fatto senza considerare quello che ha fatto la cruce rossa tutta prevenzione rispetto in caso di soffocamento e quant'altro senza considerare questo abbiamo fatto 1300 contatti tra visite controlli screening quant'altro epatite C abbiamo fatto vaccinazioni visite all'udito oculistiche e quant'altro prelievi del sangue per varie situazioni dati dati impressionanti dati CISL che dicono che il 22,2% delle persone rinunciano alle cure mediche a causa della inflazione sono dati terrificanti Berlato cioè se quelli iniziali erano brutti questi sono bruttissimi cioè abbiamo una platea di anziani sempre più vasta che rinuncia all'acquisto di alimenti nel 29,8% dei casi per il 22% comincia anche a non fare la prevenzione medica perché non c'è i soldi per farlo è un altro stimolo a dire che la politica deve metterci le mani deve sporcarsi le mani dentro questo argomento deve sporcarsi le mani e pulirsi la coscienza perché se non si entra in questa problema che diventa ogni giorno più drammatico se qualcuno dovrà fare i conti non solo con i propri anziani ma anche con la coscienza perché credo che sia non degno di un paese civile trattare in questo modo gli anziani cioè portarli a fare in modo che rinuncino ad alimentarsi in maniera corretta in alcuni casi proprio ad alimentarsi e rinuncino alle cure mediche essenziali per garantire loro un adeguato livello e qualità di vita credo che sia da paese da terzo mondo per dire questo lo dico lo ribadisco con grande determinazione io continuo a sollecitare un po' trasversalmente le forze politiche perché si rendono conto di questa drammaticità non stiamo parlando di qualcosa che avverrà ma stiamo parlando di qualcosa che già adesso e può semplicemente aggravarsi questa situazione e quindi su questo a volte trovo strano che non si riesca a capire l'entità di questo problema senta lei che ovviamente è europarlamentare uscente si candiderà per un prossimo mandato in Europa a livello europeo vede che gli altri paesi lo avvertono con maggiore pressione questo tema dell'anziano e dell'invecchiamento della popolazione oppure siamo tutti sullo stesso piano purtroppo no non siamo tutti sullo stesso piano perché abbiamo visto altri paesi che hanno maggior consapevolezza di questa necessità che c'è di intervenire prevenendo delle situazioni che possono diventare sempre più drammatiche purtroppo qui abbiamo scelto di fare altri tipi di investimenti abbiamo scelto di rendere oggetto degli interventi della politica altri tipi di categorie che forse sono state viste magari più radditizie anche dal punto di vista del consenso però voglio ricordare come giustamente ricordava lei che anche gli anziani vanno a votare cioè anche gli anziani io sostengo soprattutto ecco a maggior ragione a maggior ragione fare proprio uno scatto d'orgoglio e fare in modo da mettere ai primi posti dell'agenda politica i servizi essenziali per i nostri anziani credo che sia un atto non solo doveroso dal punto di vista politico ma un atto di civiltà lo ribadisco in maniera molto chiara determinata vediamo se riusciamo a far capire questo c'è sempre la scusa dietro la quale ci si va a nascondere che non ci sono risorse per poter fare le cose ma in realtà quando la politica tira fuori la scusa si tratta di trovarle e di metterle nel posto giusto il problema sta in questi termini normalmente quando la politica dice no non ti posso dare una risposta perché non abbiamo soldi in realtà perché quei soldi hanno deciso di investire da un'altra parte e quindi fanno delle scelte è una questione di scelte che deve essere fatta e credo che sia una scelta importante ineludibile che deve essere fatta dalla politica su questo credo che sia vediamo se riusciamo a fare un modo da scuotere se mai dovesse fare un manifesto elettorale cosa che risale al secolo scorso ma se mai dovesse fare uno slogan con scritto meno monopattini più dentiere potrebbe anche starci secondo me però vabbè lasciamo perdere grazie di essere con noi a Luciano Cherobin finalmente voglio parlare un po' se lei mi aiuta di Alpini di Adunata Alpini che sta per arrivare lo ricordiamo il clou sarà dal 10-11 fino al 12 di maggio proprio oggi il municipio ha confermato l'ordinanza che divide la città in tre grandi zone una rossa una arancione una gialla per la circolazione dicendoci già da oggi che nella zona rossa che è il centro storico non si circola né con la macchina né con la moto né in nessun altro modo a partire dal venerdì questo significa che già da venerdì voi ci farete vivere delle cose meravigliose in città arriverà un vero e proprio spettacolo a cominciare da una cittadella alpina è così? Sì prima di entrare nel tema della Dunata volevo completare un po' il discorso che tutti hanno fatto finora sugli anziani poi entriamo subito nella Dunata il ruolo degli Alpini in tutto questo gli Alpini intanto con le loro sedi sono un punto di aggregazione importantissimo per gli anziani lì si trovano fanno corsi si aggiornano poi gli Alpini lavorano molto con le case di riposo tanto volontariato sono a servizio del comune portano gli anziani alle visite vanno a prenderli a casa abbiamo facciamo tanta tanta tanto servizio presso le abitazioni andiamo a trovarli gli facciamo la spesa riusciamo a sostenerli anche dal punto di vista psicologico abbiamo anche lo spaccio solidale dove raccogliamo una spesa gratuita la portiamo a quelli più in difficoltà ecco per cui il ruolo degli Alpini in tutto questo credo che sia un aspetto del volontariato che vorrei io sottolineare fortemente se non ci fossero gli Alpini bisognerebbe veramente inventarli o trovare beh questo va bene però insomma ci diamo da fare su questo non c'è dubbio voglio dire che l'assicurazione per i volontari Alpini termina per 80 anni non ci assicurano di più posso dire che è drammatico andare a dire un Alpino soprattutto che fa protezione civile perché ce ne sono che arrivano a 79 80 anni che fanno protezione civile dirgli devi uscire perché non possiamo più assicurarti ma che che meraviglia forse aiutate proprio con la vita attiva e con la volontà di essere a servizio degli altri aiutate a limitare quell'invicchiamento di cui parlava il dottor certamente cioè li manteniamo vivi perciò li aiutiamo in qualche modo ad essere interessati a darsi da fare per la comunità a informarsi anche io adesso per la donata ho un'ottima squadra di Alpini che lavorano a computer sono tutti sui 70 75 anni ma lavorano a computer prenotazioni verifica dei pagamenti tracciamenti aspettiamola di dire che a 65 anni si è anziani assolutamente no assolutamente no le posso dire dopo gli otta quando scade l'assicurazione 80 mettiamoci d'accordo ma sono ancora in forma posso garantire che sono ancora in forma e sono eccezionali perché a 70 anni lavorano con i mezzi strumenti informatici e sono straordinari lavorano in modo veramente efficiente e per la donata sono estremamente preziosi perché anche voi avete su piattaforme elettroniche messo a disposizione un sacco di servizi da cominciare dalle piazzole prenotazioni prima grazie anche alla collaborazione col collegio di geometri prima siamo andati a rilevare le aree abbiamo individuato quelle idonee e non quelle e quelli inidonei abbiamo scelto le aree per poter allocare quelle che sono le piazzole per le tende per i camper abbiamo trovato le palestre abbiamo trovato tre battiglioni della fiera che ci sono stati dati tra i campi alla diocesi ci ha dato anche il parcheggio del seminario l'amministrazione ci ha dato il parco della pace vanno tutti rilevati riportati su file cad che è un che è un programma apposto per disegni disegno elettronico disegno elettronico si dividono le piazzole 5 per 8 i posti branda 2 per 4 dopodiché si comincia a elaborare un programma in cui gli alpini devono compilare quelli che stanno al di là una scheda che è fatta di tre pagine tre pagine di dati per cui c'è qualcuno che lo fa dall'altra parte ed è capace di farlo ed è capace di farlo tornano i dati e poi si dà la conferma si verifica il pagamento si ridà di nuovo la conferma definitiva con il numero della piazzola e tutto il resto e poi li accompagneremo nella piazzola man mano che arriveranno ma loro ci arriveranno perché a quel punto l'avranno mappato sul GPS su Maps e ci arriveranno da soli perché li sanno usare quegli strumenti lì ecco per cui un lavoro enorme fatto con strumenti moderni insomma con i computer e fatto da persone che hanno anche più di 65 anni e questo questo giochino qua l'abbiamo saputo mi pare giovedì mattina voi avete fatto la conferenza stampa di lancio ufficiale dell'adunata a Vicenza tutto questo fa girare nella città e nella provincia dove si organizza l'adunata nazionale degli alpini uno scherzetto come 140 milioni di euro è lo studio che ha fatto l'ultima studio fatto dall'università di Pavia sì questo sì però voglio dire non c'è ancora il dato dell'ultima adunata quella di Udine stiamo parlando di quali stanno ancora raccogliendo i dati di allora stiamo parlando di adunate precedenti per cui ogni adunata va sempre a incrementare quella di Vicenza è un'adunata particolare perché rispetto alle altre do solo un dato 6.500 posti gestiti dalla SRL per l'adunata di Udine 10.500 gestiti dalla SRL di Vicenza quindi stiamo già andando in un aumento sicuro i posti i posti sono stati esauriti in 20 giorni io temevo che ci fossero troppi alpini del posto che quindi si devono spostare poco nel senso che tanti alpini in provincia di Vicenza verranno all'adunata hanno già base casa hanno tutto quello che devono avere per cui magari spendono meno non lo so ma era un'impressione ci sono gruppi che si sono avvicinati ecco anche per dare fare un discorso sull'età tantissimi alpini anche se hanno sopra i 65 anni vengono per stare in tenda ecco per cui voglio dire è anche questo è anche questo è un invecchiamento attivo questa è voglio dire uno si immagina sì sono quelli che arrivano col camper per carità ma ci sono moltissimi che vanno in tenda o vengono in branda nelle palestre e hanno l'età di cui abbiamo parlato fino a poco tempo fa fino prima negli interventi precedenti per cui una vitalità a cui l'associazione contribuisce è veramente in modo straordinario dottore fare vita di comunità magari in gruppi come possono essere i gruppi alpini nelle varie sedi del territorio mettersi a disposizione fare attività di protezione civile e se non è possibile di volontariato trasporto eccetera è uno dei modi per invecchiare in maniera positiva è fondamentale e anche il Veneto si regge tanto su questi sistemi di volontariato che siano gli ampini i pensionati o tutte le tutte le tutte le tutte le tutte le associazioni di volontariato sono quelle che reggono in parte il servizio sociale fa bene a chi le vive a chi le fa perché comunque è un'aggregazione e fa bene all'altra popolazione che viene aiutata quindi è un doppio è un doppio beneficio è win-win esatto ci fa solo ci fa solo bene anche solo per combattere la solitudine come si diceva esatto perché quella poi è appunto un fattore di rischio le case di riposo ne hanno un beneficio gli alpini sono amici amici sì io poi ho un ricordo durante il periodo covid straordinario perché sono stati portato come protezione civile portavano i presidi no sicuramente sì il tema del volontariato è un altro grande tema il volontariato sta diminuendo in modo impressionante perché quella generazione che invecchia le nuove generazioni hanno meno vocazione a questo tipo di cosa per cui noi in questo momento stiamo vedendo che il fenomeno sta diminuendo per cui proprio quando diminuisce ha ancora maggior valore quando c'è lo apprezzi ancora di più perché se è raro lo apprezzi di più sì volevo però dire una cosa rispetto a prima perché poi alla fine noi dopo lei mi faccia una domanda rispetto alle 600 no ma se vuole mettersi qua a fare il conduttore 600 e falsa lettere chi ha risposto di quei senatori e deputati a distanza di 20 giorni uno beh pensavo pensavo zero quando è partito con mi faccia una domanda io pensavo mi dicesse zero una per scritto e una per telefonata vicentini veneziana e vicentina veneziana e vicentina due donne peraltro però voglio dire un'altra cosa perché prima parlavamo la lettera scritta al presidente del consiglio eccetera facciamo una riflessione rispetto anche al ministero chi di voi ha notizia che ci sia un comune che ha l'assessorato agli anziani dedicato agli anziani che è un sindaco che ha avuto la sensibilità di dire ho l'assessore agli anziani e ai servizi sociali la parola anziani c'è forse forse penso è treviso dopo il convegno credo forse ha aggiunto questa parola quanti sono i sindaci che anche rispetto a questa proposta sarebbero disponibili ad andare in consiglio comunale e fare una delibera di consiglio comunale o un ordine del giorno che dicano anche loro al presidente del consiglio riteniamo giusto un ministero della terza età vado più in ovo pensate che rispetto anche a quello che ci siamo detti questa sera quanto sarebbe significativo che il consiglio regionale del Veneto e il presidente della regione Veneto si esponesse se poi ci crede a chiedere una cosa di questo tipo quanto cassa di risonanza avrebbe rispetto a io che sono un ceselatore di zolle rispetto a questo perché neanche mai mi risponderanno è proprio un tema di sensibilità che anche noi cadiamo in questo errore perché domandiamo un ministro per la terza età e non arriviamo neanche a dire un ministro per gli anziani e secondo me le parole sono pesanti perché quando abbiamo rinunciato a dire ci serve un ministro per i vecchi lì abbiamo già perso una parte di incisività pubblicità ci troviamo fra pochissimo rieccoci in studio pochi minuti nell'ultima parte di questa trasmissione che io vorrei aprire con una brevissima clip video che vi spiego dopo che l'abbiamo vista vediamo quello che avete visto praticamente inginocchiato è Luigi Ugone ma non è colpa sua è che Giorgia Meloni lo dice da sola non è tanto alta è riuscito a incrociarla al Vinitali di Verona vero? sì beh sono andato lì apposta se devo dire la verità sì no la notizia è che si è riuscito a fermare Giorgia Meloni perché ci hanno provato un po' tutti noi ci siamo riusciti quale genere di risposta è riuscito a farsi dare? beh allora mi si riconosce dalla pettinatura no? siamo stati gli unici a riuscire a fermarla e a parlare di un argomento che interessa il territorio come dicevamo prima che è il FIR quindi fondo in inizio risparmiatori banche venete 1 miliardo 575 stanziato nel corso degli anni è stato distribuito 1 miliardo 350 milioni più o meno di cui l'80% destinati ai risparmiatori banche venete adesso ci sono quindi ballano ancora 200 milioni all'incirca 200 milioni che per i motivi per i quali abbiamo esposto questa sera sono fondamentali per il territorio per le famiglie per gli anziani per le attività e per il territorio in generale guardandolo nella sua complessità quindi quando Meloni fa il gesto con le mani dicendo 2 sta facendosi venire in mente o tentando di ricordare che ci sono 200 milioni che deve dare a voi e dice ok prima delle elezioni prima delle elezioni ci ha scritto una lettera mi ha scritto una lettera è stata così gentile da dedicarmi del tempo mi ha scritto una lettera nella quale esponeva i problemi del FIR li conosceva e diceva che l'intero a montare doveva essere destinato a chi è stato truffato e quindi al crack delle banche in quel momento lì ha fatto il cenno di 200 tra l'altro cosa strana io l'ho chiamata lei si è fermata mi ha guardato siccome l'avevo già incontrata si è fermata mi ha guardato ha stretto gli occhi ho visto che stava pensando gli faccio si ricorda la banca veneta lei mi fa madonna si è avvicinata mi ha dato la mano in quel momento si è aperto il muro di protezione che c'era e stringendogli la mano sono riuscito a comunicargli queste cose gli ha detto guarda prendo il dossier in mano sono 200 milioni non ti preoccupare vado a Roma quindi potrebbero arrivare ci crede noi ci crediamo dal primo giorno perché se non ci se non ci avessimo creduto non saremmo arrivati qua cioè siamo partiti con una norma che parlava di 100 milioni per tutti la norma Puppato Baretta Santini famosa che abbiamo combattuto se non ci avessimo creduto non saremmo qui oggi bisogna avere una visione positiva delle situazioni altrimenti veramente non se ne dà fuori sperare che la politica domani mattina si alzi ma lo dico senza malizia l'onorevole lo sa insomma i problemi di questo paese sono enormi bisogna come 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 opinione pubblica spingere i problemi che si credono importanti verso i politici con i politici in ogni occasione noi li abbiamo incontrati al Vinitali alla Fiera di Vicenza in strada a Roma a Vicenza in palestra ai gazebo noi dove ci sono ci presentiamo perché sappiano perché devono sapere che il problema è ancora vivo e che ci siamo questo è un sano lavoro di lobbying cioè cercare di incontrare i politici e far capire loro quali sono i problemi funziona così Sergio Berlato lei lo diceva poco tempo fa pochi minuti fa se un politico ti dice guarda che non ci sono i soldi è perché probabilmente li sta mettendo da qualche altra parte quindi bisogna convincere si bisogna ricordare la politica quali sono le emergenze non la scala di priorità il presidente del consiglio è travolta da milioni di emergenze non solo a livello nazionale ma a livello internazionale però Giorgio Meloni è una persona di parola cioè è una che quando assume un impegno lo onora è una sua caratteristica e quindi tra le tante cose se si è sbianciata in questa direzione vuol dire che conosce l'argomento e credo che tra le tante cose quando è tornata a Roma sicuramente avrà dato disposizione perché il dossier venga riesumato per così dire e fare in modo da riuscire a completare quel lavoro che la politica a suo tempo si era impegnata a ultimare questo credo sia importante quindi io sono molto fiducioso che Giorgio Meloni possa completare il lavoro e fare in modo di dare giusto riscontro a coloro che sono stati truffati in quel periodo che tutti noi ricordiamo io ho fatto anche parte della commissione regionale che si è occupata di queste cose quindi ho seguito in prima persona il dramma di tantissime persone che dando fiducia ad alcuni studi di credito sono trovate nel giro di poco tempo non avere nulla io mi ricordo due coniugi che sono stati a lavorare per 40 anni in Svizzera sono tornati e hanno messo tutti i loro risparmi li hanno messi in popolare e non avevano neanche i soldi per comprarsi le medicine ricordo ancora questo tipo di ecco la povertà e quindi posso chiedere facendo ancora lobbying all'onorevole Berlato che di sicuro si ricandiderà per le europee insomma se vedendo la Meloni prima delle lezioni dopo o durante può ricordare questo dossier perché noi ci proviamo sempre anche in trasmissione vedi come funziona la lobbying bisogna imparare da Ugone secondo me io do l'elega o assumerlo appunto per fare questa operazione di lobbying sugli anziani non abbiamo più fiato perché vede chi ha gli interlocutori di questi io non cioè è veramente drammatico infatti io sono riconoscente a Vicenza adesso non la voglio fare una svelenata però credo che questa sia l'unica provincia dove i professionisti della tv e della carta stampata sono quelli che più stanno avendo attenzione a questo tema perché io che vedo la rassegna stampa regionale Vicenza è molto più sensibile a questo tema continuo a parlarne ho visto anche la partecipazione agli incontri che abbiamo fatto i richiami sulla stampa c'è grande attenzione e dovremmo far crescere questa grande attenzione perché guardate che il problema lo avranno tutti perché oggi noi siamo comunque abituati a non farci più carico dei problemi della collettività ma solo quando abbiamo il problema di occuparci del problema perché quanti sono i coloro che hanno gli anziani a casa tantissimi perché i numeri sono questi ma si preoccupano dell'insorgenza della non autosufficienza che interviene la sera alla mattina perché il papà è inciampato sul tappeto di casa e da quel giorno inizia il calvario il dramma il fatto che dal giorno dopo non si può avere la badante di riserva tenuta lì per il momento in cui le badanti non ci sono neanche più badanti lo vediamo ormai chi è venuto qui a fare la badante è tornato nel proprio paese oggi perché assiste gli anziani i loro genitori che sono diventati vecchi guardate sul tema non abbiamo affrontato il tema del lavoro ma quando io sento dire anche servirebbero più posti letto eccetera faremo cattedrali nel deserto perché non abbiamo più forza lavoro in Veneto mancano 3.500 operatori mancherebbero 2.500 infermieri 1.000 siamo riusciti a farli arrivare lei mi sta dicendo che anche se noi prendessimo gli asili che abbiamo costruito col PNRR li trasformassimo in RSA magari con stanze singole i medici da mettere in tutte queste case di riposo non ce li avremo comunque due dati non avremo gli infermieri gli operatori ma gli operatori in modo particolare sarà un dramma ma dicevo prima noi tra l'altro in questo momento dalle strutture per anziani non siamo neanche più un peso per le geriatrie perché non ricoveriamo più giusto da noi prima eravamo un tasso 5 anni fa eravamo un tasso di ricovero ospedaliero di 2,8 giorni per ospite anno in ospedale oggi siamo allo 0,6 vuol dire che da 2,8 giorni siamo passati a 8 ore perché ve li curate direttamente dentro la struttura perché quello che loro non hanno neanche lo spazio per noi abbiamo per raccogliersi è diminuito i modi scusa dalla RSA al reparto diminuisce noi ne vediamo ancora dopo però io ho una visione del mio reparto però ce ne sono ancora di pazienti che dall'RSA arrivano nel reparto non so dire se la percentuale sia aumentata o sia calata però ne abbiamo ne abbiamo ancora l'altro problema grosso al di là della carenza dei medici è la carenza di infermieri perché li abbiamo fatti laureare quasi tutti hanno un master due master e dopo però sono pochi bisogna rendere attrattivo sono pochi probabilmente anche loro hanno condizioni di lavoro migliori fuori dagli ospedali assolutamente perché in tanti altri stati l'infermiere ha un ruolo cruciale nella gestione del sistema sanitario diventano degli infermieri di percorso fanno da manager però bisogna renderlo attrattivo anche il lavoro dell'infermiere che sarebbe un lavoro bellissimo lo è assolutamente e qui c'è un calo anche qui sulle iscrizioni dopo che siamo un paese fantastico perché non abbiamo un liceo sottosanitario abbiamo licei per tutte le categorie possibili per tutti gli istituti non abbiamo un liceo sottosanitario serve il lavoro di lobbying Siviero per portare avanti un interesse settoriale nei confronti degli anziani bisogna farlo sindacati politica insieme io credo che se andiamo a fare un lavoro di lobbying sugli anziani andiamo a scontrare le generazioni non è questo il tema io credo che penso sul tema farei un ministero dei servizi sociali tra poco ci saranno le ATS è stata avvalata qualche giorno fa la legge delle ATS perché non facciamo lì tra virgolette l'assessorato sugli anziani perché si occupa dei laps dei livelli essenziali dei prestazioni sociali non sanitarie noi stiamo parlando della non autosufficienza il tema è socio sanitario sono persone malate le prestazioni sociali è un'altra cosa lei è presente che comunque anche oggi la non autosufficienza è in capo all'EU sta in capo comunque anche ai comuni rispetto alla non autosufficienza però anche lei mi sta dicendo che o da una parte o dall'altra uno che ci metta la testa sopra sarebbe anche necessario evitando io faccio contrattazione sociale quando parliamo nella contrattazione sociale con i comuni quando parliamo di rete delle RSA lo vedono come puro assistenzialismo ed è un fatto culturale pesantissimo pensare che bisogna uscire da questa da questa logica e pensare perché non è dignitoso pensare rispetto alla persona che do assistenzialismo a una persona che è in una situazione precaria in termini sociali in termini economici adatto abbiamo quasi finito il tempo che robin durante la donata degli alpini uno striscione che dica pensiamo di più agli anziani mettiamo un ministro per gli anziani veci e boccia tutti insieme veci e boccia tutti insieme la questione è proprio una questione di mentalità cioè il rapporto tra le generazioni è straordinariamente importante che ci sia un servizio alla patria obbligatorio nel senso che si deve capire che bisogna dare qualcosa alla società e in questo caso la società è fatta soprattutto di anziani grazie davvero abbiamo finito il tempo vi auguro un meraviglioso fine settimana se vorrete la settimana prossima 26 aprile anche se c'è il ponte noi siamo qua a tenervi compagnia grazie agli ospiti davvero grazie come è il calo dei prima serata è presentata da Wolf Metal Welding grazie a tutti grazie a tutti